Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove adesso ci sono due chilometri di coda per un veicolo in fiamme ora estinto tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località albiano Magra nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!